BMW F800R stupisce per il motore pieno e potente, con un allungo fantastico. Posizione di guida molto ben triangolata e comoda e adatta anche ai lunghi viaggi, anche se priva di careni. Moto BMW in tutto e per tutto quindi pecca nel listino, non proprio economico rispetto ai suoi competitor.